Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Solennità dell'ascensione di Gesù al cielo, questa solennità così importante e bella. Ecco Gesù completa la sua missione, dopo essersi manifestato per 40 giorni risorto ai suoi discepoli, avergli insegnato e spiegato tante cose, ora conclude, completa la sua missione e ritorna al Padre, ritorna là dove era prima di farsi uomo e ci ritorna con la sua natura umana glorificata e in un certo modo è come un'apricordata che apre la via anche a noi per il ritorno al cielo, per andare anche noi un giorno a stare per sempre con Lui. Da lì Gesù intercede per noi presso il Padre, gli mostra le sue piaghe gloriose, è il nostro Avvocato, intercede per noi, ci manda lo Spirito Santo, ci difende da noi stessi dal maligno, è il nostro Avvocato. Ecco questa solennità così bella che ci parla della glorificazione di Gesù al quale è dato ogni potere segue un Vangelo particolare, se ci fate caso il Vangelo secondo Matteo non racconta l'episodio dell'ascensione, quello è raccontato negli atti degli apostoli, ma il Vangelo secondo Matteo ci parla degli istanti immediatamente prima dell'ascensione con il mandato di Gesù ai suoi discepoli alla Chiesa. È una scena molto molto particolare. Prima di entrarci è bello notare subito un punto. Abbiamo parlato di ascensione, Gesù che torna al Padre e intanto però nel Vangelo dice io sono con voi tutti i giorni. Allora uno si potrebbe chiedere ma Gesù c'è o non c'è? È asceso rimasto. Potremmo dire che è asceso per rimanere. Vedete, quando Gesù era sulla terra era limitato in un punto preciso in Palestina, no? Come ogni uomo. Dio si è fatto uomo in tutto. Ora che invece è risorto, è glorioso, ora che è andato in Dio, dato che potremmo dire così Dio è ovunque, anche Gesù in un certo modo è ovunque, semplificando molto, ma soprattutto si rende presente per mezzo dello Spirito Santo nella Chiesa. Quindi l'ascensione non è l'assenza di Gesù, è una diversa modalità della sua presenza in mezzo a noi. Noi aspettiamo che Egli ritorni visibile, glorioso, nell'ultimo giorno. Quando avrà fine questo cielo, questa terra, inizieranno cieli nuovi e terra nuova. E abbiamo ecco questo brano dell'invio di Gesù, dei suoi discepoli. È un testo che ci fa bene rivedere, rileggere, perché è il mandato che Gesù ha fatto a ognuno di noi, a tutta la Chiesa, a ognuno di noi cristiani. Subito, vedete, salta all'occhio la situazione di questi discepoli. Guardate, uno ha tradito, non sono più dodici, ma undici. Nonostante abbiano Gesù lì davanti a loro, il Vangelo ci dice che dubitarono in cuor loro, dubitavano. E l'immagine una Chiesa debole, fragile, alle prese con i membri che lasciano, con membri che hanno dubbi e difficoltà. Ma vedete, il Signore non ha paura di questo. In mezzo a questi ci possiamo essere anche ognuno di noi. Vedete, il dubbio. Il dubbio fa parte del nostro cammino di fede. Significa che non è sempre tutto chiaro. I dubbi ci possono aiutare a crescere, ci possono aiutare a cercare, ci possono aiutare a maturare. Il problema è se io mi nascondo dietro i miei dubbi o le cose che non so per non fare un passo in avanti. Ecco, il Signore non ha paura delle nostre fragilità e ci invia a tutti quanti, ci dà un compito, scommette su di noi. Vedete, l'ascensione, così l'invio missionario, che cosa ci dice? Ci dice che il Signore ci affida un compito, che il Signore ci fa spazio. E questo è molto bello, perché vedete, è come un padre. Un buon padre che cosa fa? Un buon padre è sempre presente, ma non si sostituisce al figlio. Gli dà gli strumenti, gli insegna ad affrontare le difficoltà e i problemi e poi lo fa agire. Gli lascia spazio, Noi oggi, già solo sul tema della paternità, quanti problemi abbiamo? Da una parte c'è l'estremo del padre che si sostituisce in tutto al figlio e dall'altra parte del padre assente completamente, che non trasmette nulla al figlio. Il Signore invece ci insegna e ci mostra la vera paternità, l'esserci sempre. Io sono con voi tutti i giorni, ma al tempo stesso ci manda, ci dà spazio, ci fa crescere. Non ha paura dei nostri errori, dei nostri limiti. E questo è bello. Perché? Perché vuol dire che Dio ci prende sul serio e ci ama sul serio e scommette su ognuno di noi. Quindi abbiamo l'immagine di una chiesa fragile che il Signore però rafforza, incoraggia con la sua presenza. Infatti che cosa dice? A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Come a dire, tranquilli, voi avete le vostre fragilità, le vostre difficoltà, ma ci sono io e io ho ogni potere in cielo e sulla terra. Non il potere della menzogna, il potere dell'arroganza, il potere dei soldi, il potere di questo mondo che passa. Qui si parla di ogni potere. Il Signore ci rafforza, c'è la sicurezza e dici io posso farcela. Ma perché? Perché sono bravo io? No, perché tu sei con me. E il Signore ci manda a fare una cosa, evangelizzare. Infatti dice battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qui baptisma in greco significa immergere, immergere nel Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo. Vuol dire far fare esperienza d'amore alle persone, far riscoprire l'amore di Dio, insegnare, osservare ciò che Gesù ha detto. Ecco, noi dovremmo riscoprire tutti la gioia, la forza, la voglia di evangelizzare, che attraverso di noi le persone vedano, sentano Gesù e possano aprirgli il cuore. Questo è un punto veramente importante della nostra fede, di essere cristiani. Perché? Perché, guardate, noi possiamo proporre tante cose belle alle persone e lo dobbiamo fare, per carità, ma se non trasmettiamo il tesoro più grande, che è il Signore, diceva Papa Benedetto, chi non dà Dio dà troppo poco. Guardiamoci attorno, fratelli e sorelle. Abbiamo persone distrutte dai lutti, difficoltà economiche, persone che non sanno dove sbattere la testa prima, persone che non sanno più amare. Abbiamo giovani che già a 15, 16, 18 anni, già hanno provato tutto e vagano senza un obiettivo, come se già la vita fosse finita anzitempo. Noi davanti a tutto questo siamo chiamati ad annunciare, a testimoniare la salvezza, anzitutto a mostrarla con uno stile di vita nuovo. Una volta chiesero al Papa Francesco, ma se è un mio amico ateo, cosa gli devo dire? Il Papa gli disse, guarda, tu prima di tutto agisci cristianamente, datti da fare, agisci bene, già quello lo farà incuriosire. Poi, quando c'è l'occasione o ti chiederà qualcosa, o si apre l'opportunità, parlagli anche di Gesù. Vedete, evangelizzare cosa significa? Vivere la nostra fede. E se noi la viviamo, e la testimoniamo, e l'annunciamo, diventiamo attrattivi, perché il Vangelo si diffonde per attrazione, non per imposizione. E proporre a tutti la possibilità di vivere per sempre, che ci dà Gesù, che ci ha detto, chi crede in me anche se muore vivrà. Si tratta di proporre a tutti l'esperienza di poter essere perdonati dai nostri peccati, di potergli dare la possibilità di riscoprirsi finalmente amati e capaci di amare, avere in sé la forza di donarsi e di amare fino in fondo, cosa che con le nostre sole forze non riusciamo a fare. Ecco la salvezza, l'annuncio di Gesù. E il Signore manda ognuno di noi e ci assicura coraggio, andate. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Che Dio vi benedica.